Bellissima iniziativa, parte dall'associazione Bocca di Falco P3. Insieme a tanti amici, anche a un mio carissimo amico Giulio Garufi e il suo gruppo di ballo, stiamo mettendo tantissime persone in moto per dare questo contributo a questi bambini e lottare veramente a suon di musica, di ballo, insomma, a quello che viene dentro, un sostegno per questi bambini. Vogliamo ringraziare anche la figlia che sta donando veramente tantissimo con i suoi amici del gruppo di ballo. Un'altra bellissima iniziativa, parte che la collaborazione con una ragazza che proprio è testimone stasera di questo evento che viene direttamente da Napoli, Cristina, e darà veramente la testimonianza di questi bambini e di quello che faremo nel futuro anche insieme a questa associazione napoletana. Come si chiama l'associazione? Sì, l'associazione si chiama Five Star, il presidente Cira Cialaibola, seguita anche dal suo marito, il maestro Carmine Cagliazzo, che voglio salutare tantissimo, che veramente lotta tanto e fa tanto per questi bambini, infatti faranno anche il 10 novembre un festival bellissimo e importante a Napoli. Stasera tanta musica e cos'altro? Stasera ci saranno tantissime persone che hanno creduto in questo progetto, che credono in questo progetto e che magari daremo un sostegno superiore a quello che le aspettative danno. Tanto ballo, tanto divertimento, tante canzoni, tanta bella gente. Bella gente che ha creduto veramente in un progetto che non è Nicola Buscemi, non è Palermo, ma sono questi bambini che realmente hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto per curarsi. Vogliamo citare il nome di qualche artista che sarà presente stasera? Sì, stasera ci sarà Antonino Buscemi, che direttamente da Mediaset, sappiamo tutti, è la sua performance che ha avuto a Io Canto. Ci saranno altri cantanti, ci sarà il vincitore di Anch'io Canto, che abbiamo avuto anche ospite qui in televisione. E tanti altri che facciamo magari così per sorpresa, li lasciamo così, li lasciamo in sospanza. Appuntamento dove? Appuntamento alla Manita e Corso Calata Fimi alle 20.30. Stasera una particolare testimonial da Napoli. Sì, buonasera, colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Bocca di Falco P3 del presidente Nicola Buscemi, che mi ha dato l'occasione e il privilegio di contribuire ad aiutare questi bambini malati di leucemia, regalando loro un sorriso al son di musica. E per questo colgo l'occasione per mandare un bacio a tutti questi bellissimi bambini che appunto combattono e lottano per continuare a sorridere sempre insieme a noi. Una modella, anche una presentatrice, che sarà presente il giorno del festival ad Acerra. Sì, infatti sarò lì come testimonial, ma inoltre aiuterò la presentatrice, quindi diciamo che presenterò anche un po' la serata insieme a lei.